Eccoci tornati nello studio di Uno Mattine, è stata approvata la legge di bilancio per il 2023. Tante le novità, tra queste lo abbiamo detto all'inizio, la cancellazione delle cartelle sotto i 1000 euro per i cittadini e imprese. Ne parliamo con Gianluca Timpone, commercialista. Buongiorno. E allora, ci si aspettava qualcosa in più? Beh, in realtà le aspettative erano abbastanza alte, però in questo pacchetto effettivamente c'è un po' di tutto. Nel senso che l'obiettivo principale è quello di smaltire anche il cosiddetto magazzino dell'Agenzia delle Entrate e Discussioni, perché spesso tenerle in vita costa di più rispetto a quelle che sono le somme che poi effettivamente vengono recuperate. Ecco, 1000 euro ognuna oppure la somma? Ad esempio, se noi dovessimo avere una di 800, una di 300 e una di 900, superiamo la soglia a 1000? Chiariamo subito. Allora, parliamo di quelle cartelle sattoriali al di sotto dei 1000 euro che vanno dal 2000 al 2015. Se all'interno del ruolo sattoriale oppure della cartella sattoriale vi sono più imposte da recuperare, faccio un esempio, c'è l'IVA di 500 euro che non abbiamo pagato, c'è l'IRPEF di 800 euro che non abbiamo pagato. Se effettivamente trattasi di 500 più 800, quindi superano i 1300 euro, a secondo di come verrà scritta la legge, può darsi che venga cancellata anche la cartella di 1300 euro perché comunque si tiene conto della singola imposta iscritta all'interno della cartella. È chiaro che bisogna attendere sempre il cosiddetto decreto attuativo e verificare in che termini queste cartelle vengono cancellate. Ecco, invece che cosa si è deciso per la rateizzazione dei pagamenti? Per quanto riguarda la rateizzazione, soprattutto ci riferiamo a quelle che sono le cartelle superiore a 1000 euro. Per quelle sotto a 1000 euro non bisogna fare assolutamente nulla perché l'agenzia delle entrate e riscossioni provvederà in maniera automatica. Bisogna solo verificare che questo venga fatto. Per quelle superiori si paga esclusivamente l'imposta non pagata al netto di sanzioni ed interessi. Quello che stiamo vedendo è la rottamazione superiore a 1000 euro. Esattamente, parliamo di rottamazione che è ricalcata sulla vecchia rottamazione. Quindi noi in questo momento stiamo parlando della cosiddetta rottamazione quarter, ce ne sono state tre in precedenza. Quindi noi che abbiamo? Abbiamo una cartella esattoriale come in questo caso di 20.200 euro. In questi 20.200 euro è compreso l'imposta che non abbiamo pagato, poi ci sono le sanzioni e gli interessi. Che cosa accade con la rottamazione? Sanzioni di interessi vengono cancellate, quindi si paga solo l'imposta originaria, in questo caso 15.000 euro, e la si può pagare in 5 anni. Qui abbiamo ipotizzato in 5 anni, quindi in 72 rate mensili, quindi mensilmente si paga circa 208 euro. Ecco, ma come si fa a richiedere però la rottamazione? Come abbiamo visto adesso per cartelle superiori a 1000 euro. In questo caso si attende sempre quello che è sostanzialmente le istruzioni, però sulla scorta dell'esperienza precedente la richiesta va fatta all'agenzia delle entrate e riscossioni. E solitamente la si può fare o direttamente entrando nel sito e quindi nella propria area riservata utilizzando la cosiddetta identità digitale, lo speed. Quindi si entra lì e siccome ci sono dei software appositi è una procedura abbastanza semplice. In automatico ci vengono indicate le cartelle oggetto di rottamazione e poi le rate che bisogna pagare o mensilmente oppure trimestralmente a secondo dei casi. Per situazioni un po' più complesse ci si potrà in un certo senso rivolgersi, come accadeva in passato, direttamente agli sportelli dell'agenzia delle entrate e riscossioni. Allora, come stavamo dicendo che questo ovviamente entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio del 2023, ma se dovessimo ricevere adesso una cartella esattoriale? No, tra l'altro in questi giorni ci saranno ulteriori notifiche, perché si parla di 8, 9, 10 milioni di cartelle che ancora devono essere notificate. Però la notifica è necessaria perché se la cartella non è notificata non la possiamo rottamare. Se abbiamo delle cartelle in essere che magari sono scadute, perché noi vogliamo ricordare che se non la si paga entro i 60 giorni, decorso il termine di pagamento, l'agenzia delle entrate può avviare quelle che sono le azioni esecutive. Quindi che cosa bisogna fare? Sicuramente il consiglio è quello di tenerle tutte in stand-by. Per le cartelle scadute si fa un'istanza di rateizzazione, in modo tale che si evita sostanzialmente che l'agenzia delle entrate e riscossioni ponga in essere, cosa che non dovrebbe avvenire, le cosiddette azioni esecutive. Quindi pignoramento del conto, ferma amministrativa, iscrizione ipotecaria o pignoramento verso terzi. E allora, per concludere, chi invece ha aderito alla rottamazione Terra? Cosa deve fare? Per chi ha aderito alla rottamazione Terra si viaggia su due binari, deve continuare a pagare le rimanenti rate della rottamazione Terra e se nel frattempo ha altre cartelle esattoriali che non sono rientrate nella rottamazione Terra, deve aderire a quest'ultima rottamazione. La procedura per quelle al di sotto dei 1000 euro è automatizzata, cioè vengono cancellate senza fare alcunché. Per quelle superiori bisogna chiaramente effettuare una richiesta direttamente all'agenzia delle entrate e riscossioni. La buona notizia è che rispetto alla precedente versione è stata cancellata per le cartelle superiore a 1000 euro il 5% di maggiorazione. Questo proprio questa notte? Questo stanotte, sì, last minute. Anche perché noi ancora non è che l'abbiamo letta la legge di bilancio, insomma, quindi erano tutte magari indiscrezioni di tipo giornalistica. Poi il referente, chiaramente il viceministro, ha chiarito che si pagava esclusivamente la sola imposta non versata. Grazie, ringraziamo Gianluca.